buongiorno a tutti buon lunedì benvenuti nella decima puntata della grande storia del tennis oggi parliamo della retrocessione dell'italia nel 2000 in coppa davis retrocessione avvenuta a mestre contro il belgio parleremo un po di quanto era successo dopo il 98 vi ricordate che nell'ultimo episodio si era arrivati alla finale del 98 ecco parleremo un po di quello che successe nel 99 parleremo di quello che poi portò alla retrocessione dell'italia nel 2000 prima di parlarne l'invito è come al solito ad attivare la campanella ad iscrivervi iscrivetevi iscrivetevi al canale e ad lasciare tanti bei like al video allora c'eravamo lasciati nella scorsa puntata della grande storia del tennis con l'italia che perde la finale che perde la finale del 1998 con la svezia italia che batte gli stati uniti in america italia che arriva in finale italia che solo per sfortuna non riesce a vincere il il torneo la magia però di questa squadra finisce qua finisce qua perché nel nelle già dell'edizione successiva l'italia perderà al primo turno dalla svizzera nel chatel un 3 a 2 che ci costringerà agli spareggi spareggi che noi giocheremo a sassari contro la finlandia in una partita che doveva essere una pura e semplice formalità ma che una formalità non fu perché insomma sanguinetti recuperò da 2 a 1 sotto nel nel quarto incontro eravamo a un set da finire in serie b e quindi ci salvamo pelo 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 contro la finlandia ovviamente nell'edizione del 2000 perdiamo lo status di testa di serie e quindi il primo turno diventa rognoso perché dobbiamo affrontare necessariamente una squadra testa di serie e le teste di serie in quella in quell'edizione sono stati uniti sono regno unito sono spagna sono russia sono l'austria sono il brasile sono i scusate sono la francia sono la germania l'australia e la slovacchia probabilmente l'avversario più semplice da affrontare era la slovacchia ma il sorteggio ci mette di fronte alla spagna spagna che in quel periodo si presentava con i con con alber costa e e ales correscia noi come detto avevamo la stessa squadra che aveva fatto finale due anni prima ovvero davide sanguinetti andrea gotenzi e poi gaudenzi narciso in doppio si gioca dal 4 al 6 di marzo l'ultima sfida era stata giocata a pesaro nel 1997 il famoso miracolo di camporese di cui parleremo in una delle prossime edizioni avevamo gli avevamo battuti per 4 a 1 e adesso tocca a noi andare a giocare in spagna sulla terra contro alber costa e ales correscia con un non giocatore da terra battuta come davide sanguinetti e con un giocatore da terra battuta ma senz'altro inferiore sia alber costa che a che a correscia come andrea gaudenzi e tutto va secondo le più ovvie previsioni ovvero perdiamo i primi due singolari costa batte sanguinetti 6 4 6 4 6 2 correscia batte gaudenzi 4 6 6 1 6 1 6 1 e quindi arriviamo con l'acqua alla gola a giocare la partita del sabato il doppio del sabato che sarebbe stata la partita che ci poteva rimettere in corsa finisce però con un 6 3 6 4 6 1 a favore di bacio se correscia contro la coppia gaudenzi narciso inutili gli ultimi due singolari dove andrea gaudenzi batterà 6 4 al terzo set alber costa e dove clavette batterà santo padre 6 3 al terzo set finisce 4 a 1 per gli spagnoli spagnoli che si lanciano alla conquista della loro prima coppa davis noi che siamo costretti a finire agli spareggi di luglio e gli spareggi di luglio il sorteggio fatto più o meno ora non mi ricordo se a fine marzo inizio aprile insomma dopo il secondo turno ci dà in sorte il belgio belgio che non è nulla di eccezionale a rocus e de wolf come i singolaristi e i fratelli e rocus e olivier rocus e in singolare philippe de wolf in singolare e christophe rocus e van hoddut in doppio sono una squadra tecnicamente battibile ma ripeto la magia del del 98 e anche i miracoli fatti da quella squadra sono destinati ad esaurirsi e qua la federtennis fa una scelta un po azzardata ovvero con due terraioli come rocus e de wolf andiamo a giocare con questa squadra che di terraioli in realtà ha solo gaudenzi sulla terra di mestre a venezia dal 21 al 23 di luglio probabilmente un campo in erba sarebbe stato più indicato avrebbe e soprattutto la convocazione di gialluca pozzi sarebbe stata una scelta un attimino più più sensata avrebbe pozzi che aveva fatto ottavi di finale a wimbledon perdendo in 47 da black e che sull'erba era sicuramente una una garanzia molto superiore rispetto a quanto non lo era sanguinetti sulla terra la scelta della federazione ricade sulla terra battuta come detto si va a giocare a mestre si va a giocare a mestre tra l'ottimismo generale nel senso che tutti si aspettano di finire di finire 2 a 0 la prima giornata magari di perdere il doppio dove onestamente i belgi erano superiori a noi e poi di chiudere comunque in in tre o in quattro cinque incontri perché tutti si pensava che magari gaudenzi o sanguinetti o gaudenzi avrebbero probabilmente vinto contro contro rocus e de wolf e tutto questo entusiasmo si spenge fin dalla prima partita quando un in un irriconoscibile andrea gaudenzi andrea gaudenzi gioca probabilmente la peggior partita della della sua della sua storia della nazionale perdendo da rocus in tre set 6 2 6 2 7 5 6 3 a favore del belga e insomma andiamo a giocare il secondo singolare con tanta 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 ansia ansia che diventa terrore quando the wolf vince il primo set per per 7 5 per 6 1 e ci porta al tie break del secondo tie break del secondo che per fortuna sanguinetti riesce a vincere poi vincerà anche il il terzo set per 7 5 e dominerà il quarto per 6 0 sanguinetti che porta la situazione sul 1 1 non è certamente il risultato che ci si aspettava però è un risultato che è rimediabile anche in caso di sconfitta del doppio avremo comunque da battere i due belgi che ricordiamolo non sono dei fenomeni navigano intorno alla centesima posizione atp e sono giocatori che i nostri possono tranquillamente battere purtroppo il doppio va secondo le previsioni triplice 6 4 per la coppia bella formata da christophe rocus e vande e tom vande hot 2 a 1 belgio al sabato e spettro nella serie b che insomma legge sui sui campi in terra battuta nel del circolo tennis di venezia aleggia e diventa più che uno spettro quando rocus va a 2 7 a 0 e 5 2 sopra contro sanguinetti sanguinetti fa un miracolo riesce a vincere 86 al tie break il terzo set vince 61 il quarto e sembra lanciatissimo a vincere va 2 a 0 nel nel quinto set il pericolo sembra sembra scampato galeazzi si esalta in tv si sta già pensando al quinto singolo al quinto incontro quando quinto incontro che avrebbe giocato renzo furlana perché godensi dopo il doppio disse che non non se la sentiva di giocare il singolare della domenica e quando un contro break riporta la sfida in parità e poi il dramma sul sul 6 a 5 per il belga sanguinetti spara fuori tre dritti spara fuori tre colpi fa tre gratuiti e porta il belgio a vincere la partita a vincere la serie per 3 a 1 per la cronaca il quinto e singolare devolfe avrebbe battuto furlan 7562 quindi non avremmo avuto scampo neanche se sanguinetti probabilmente non avremmo avuto scampo neanche se sanguinetti avrebbe vinto il suo singolare di questa retrocessione e poi costò all'italia considerate che l'italia attorno in davis tornò nel gruppo mondiale di coppa davis nel 2012 in in quegli 11 anni finimmo anche in serie c e battuti dallo zimbabwe andremmo a giocare a livorno contro contro la lettonia per risalire in serie b troviamo due volte la spagna una volta a torre del greco un'altra volta un'altra volta a murcia sedo nero spagna di nadal quindi sorteggi nettamente sfavorevoli l'unica possibilità di salire la buttamo via in svezia quando hanno cepping per demmo il doppio decisivo che perché se risulterà decisivo per salire di sopra e insomma stand staremo 11 anni senza fare il gruppo mondiale di coppa davis ci torneremo grazie allo spareggio di napoli contro il cile spareggio di napoli che ci spalancherà le porte della della serie a torneremo a giocare il primo incontro in repubblica cieca lo perderemo 3 a 0 no scusate il primo spareggio lo giocammo in cile poi il secondo spareggio ancora contro il cile lo giochiamo a napoli proprio nel 2000 nel 2012 e ci salveremo e troveremo poi nel 2013 la prima vittoria io c'ero a torino contro la croazia 3 a 2 firmato 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 fabio foglini che batterà nel quinto incontro 466 464 464 dodic regalandoci per la prima volta i quarti di finale che perderemo poi contro il canada in una partita rocambolesca con un doppio rocambolesco ma questa è un'altra storia questa retrocessione fu targata federazione perché scegliere la terra fu un errore non portare pozzi e non scegliere un campo veloce fu un errore ci fu un errore di sottovalutazione degli avversari insomma si miscelarono tante cose per cui andò male e quella andare male ci costò 11 anni di inferno nelle serie inferiori di coppa davis quindi noi in due anni passamo dalla finale di coppa alla triste retrocessione che in quel momento sembrava poca roba nel senso sembrava che potremmo potevamo tornare di sopra abbastanza velocemente ecco a tornare di sopra ci mettemmo 11 anni quindi questo per dire che non bisogna mai ad alciarsi sugli allori bisogna sempre cercare di mantenere ciò che sia perché quello che sembra scontato oggi non lo è domani io ho detto questo vi ringrazio vi saluto spero che questa storia questa questo racconto di una pagina molto triste del tennis italiano ma abbiamo festeggiato tutti i giocatori migliori abbiamo abbiamo raccontato la davis del 76 abbiamo raccontato la finale del 98 era giusto anche raccontare probabilmente la peggiore pagina una delle peggiori se non la peggiore pagina della storia del della davis del nostro sport ce ne saranno altre ci sarà messa io ci sarà nant ci sarà modo di poter parlare ma questa è veramente quella che ha fatto più male quella che è costata 11 anni di purgatorio in nelle leghe nelle nelle serie inferiori della coppa davis io ho detto questo vi saluto vi auguro una buona una buona giornata ci vediamo stasera per commentare i primi turni del quince e di alle grazie a tutti e buona giornata